Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. In primo piano Roberto Di Matteo, il giornalista barese detenuto in carcere in Venezuela, è stato rilasciato. L'ho reso noto nella tarda serata di ieri e un sindacato, insieme a lui liberati anche il collega svizzero e venezuelano. Di Matteo era stato fermato con l'accusa di aver introdotto senza autorizzazione nel carcere di Tocoron strumenti per girare video e registrare audio. Non sappiamo se adesso potrà restare in Venezuela o dovrà rientrare in Italia, ha dichiarato suo padre, non lo abbiamo ancora sentito. Speriamo stia rientrando anche perché ora dovrà stare attento ad ogni minima mossa. E cambiamo argomento e torniamo nel quartiere San Paolo, più precisamente nel distributore di benzina che in soli due mesi ha subito ben 14 rapine. Vediamo. Chiedono l'installazione di una telecamera di videosorveglianza su Viale Europa, in modo da incrociare i dati con quella privata già esistente e fornire un importante contributo nel ritrovamento dei rapinatori. In più, un presidio delle forze dell'ordine, almeno nelle ore notturne, perché davvero non ce la fanno più. A poche ore dall'incontro del sindaco Antonio De Caro con i gestori e i dipendenti della pompa di benzina al quartiere San Paolo, che in soli due mesi è stata rapinata ben 13 volte, ecco che si consuma l'ennesimo episodio criminale. Un uomo incappucciato ha minacciato con la pistola due dei dipendenti in servizio e si è fatto consegnare i soldi, poi è scappato a piedi. Il bandito agito da solo e, secondo le testimonianze dei due benzinai, potrebbe trattarsi dello stesso autore delle precedenti rapine. Sale così a 14 il numero dei colpi messi a segno nella medesima stazione di carburante, nel mirino dei malviventi, dal mese di agosto. La titolare dell'attività e i dipendenti sono disperati, ma si dovrà ancora attendere per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica insieme al Prefetto, promesso dal primo cittadino, che però, informalmente, ha già discusso dell'accaduto con le forze dell'ordine. I funzionari dell'ufficio delle Docane di Bari hanno sequestrato 2600 bodi da danza provenienti dalla Bulgaria. La merce trasportata in 30 cartoni riportava tutti gli elementi per trarre in inganno il consumatore sull'esatta origine geografica del prodotto. La violazione oltre a sequestro prevede che il contravventore sia punito con una sanzione amministrativa dai 10.000 ai 250.000 euro. E ancora cronaca, un tir che trasportava sigarette è stato rapinato questa mattina a Bitetto. I fatti si sono svolti intorno alle 8. I banditi, almeno sei persone, avevano affiancato il mezzo pesante all'interno di due auto e avevano costretto l'autista a scendere, minacciandolo con le armi. L'immediato intervento dei carabinieri però ha costretto i banditi ad abbandonare il camion, ritrovato poi a Modugno con all'interno buona parte della refurtiva. L'autista è stato invece rilasciato a Tattrani e Corato. La banda ha fatto momentaneamente perdere le proprie tracce. Ed è stato siglato questa mattina il protocollo di intesa tra Regione Puglia, Coreve e Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti. Vediamo. C'è una legge regionale in Puglia che dice che i comuni devono fare una convenzione con Coreve. Ci sono anche piccoli comuni. Questi piccoli comuni raccolgono delle quantità anche piccoline per cui le portano alla piattaforma e dovrebbero esserci tanti piccoli mucchietti che noi dovremmo controllare e poi gestire uno per uno. Questo da punto di vista logistico è difficilissimo, anzi con costi. E poi gli stessi comuni avrebbero dei costi aggiuntivi in quanto una cosa è gestire una grande area, una cosa è gestire tanti. Un accordo volto a stimolare l'incremento dei quantitativi di rifiuti di imballaggi in vetro raccolti in Puglia e aiutare molti piccoli comuni a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale. E' stato siglato questa mattina il protocollo d'intesa per rimuovere l'ostacolo dal meccanismo di raccolta e riciclo del vetro e aiutare nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano straordinario di incentivazione sud. Lanciato dall'inizio dell'anno da Coreve per incrementare la raccolta differenziata del vetro nelle regioni del Mezzogiorno prevede la disponibilità fino a 3 milioni di euro in bonus per quelle regioni meridionali che nel 2017 avranno registrato un incremento di almeno il 10% della raccolta di rifiuti di imballaggi in vetro rispetto al precedente anno. E' un punto di partenza fondamentale per migliorare la raccolta differenziata del vetro e che ci veda ancora un po' indietro come regione. Il Coreve ha scommesso sulla Puglia, ha scommesso sul Mezzogiorno, ha previsto per l'anno 2017 dei contributi straordinari per le regioni che raggiungono, migliorano la raccolta differenziata almeno del 10%. La regione sta all'8,2 e quindi cercheremo di raggiungere questo obiettivo. Inaugurazione del nuovo anno accademico al Politecnico di Bari. Durante la presentazione del percorso formativo, questa mattina al campus, due ospiti speciali. Vediamo. Una giornata di festa per dare il benvenuto alle nuove matricole. L'atrio centrale del Politecnico di Bari ha ospitato questa mattina sei dei nostri, manifestazione inaugurale del nuovo anno accademico. Il Rettore Eugenio Di Sciascio ha presentato la qualità del percorso formativo e le prospettive lavorative post laurea. I nuovi iscritti hanno potuto curiosare negli spazi del campus e richiedere informazioni alle associazioni studentesche. 1.655 i nuovi universitari immatricolati ha conferma di un trend positivo di iscrizioni e di una crescita dell'8% rispetto allo scorso anno. Attualmente siamo una bella realtà del panorama universitario, offriamo dei corsi che servono, che sono utili per i nostri giovani innanzitutto, ma sono dei corsi che hanno un grande appila anche in termini di mercato del lavoro e quindi c'è una crescente domanda. A inaugurare il nuovo anno accademico due ospiti di eccezione, i due comici Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, veri e propri mattatori della mattinata con i loro siparietti. Tra una risata e l'altra il due è tornato così in scena per spiegare ai ragazzi l'importanza della formazione per competere nel mondo lavorativo. Al via la quarta edizione del Festival dell'Acqua, il futuro della risorsa idrica tra siccità e alluvioni. Ce ne parla Roberto Maggi. Blue Circular Economy, nuove tecnologie, accessibilità e sviluppo sostenibile. Al via Bari la quarta edizione del Festival dell'Acqua, l'appuntamento ideato da Utilitalia e Acquedotto Pugliese sul futuro della risorsa idrica. In Italia, secondo i dati elaborati proprio da Utilitalia, si disperde il 39% dell'acqua immessa nella rete. Le perdite medie al nord arrivano al 26%, al centro al 46% e al sud al 45%. Dal resto, il 60% delle infrastrutture è stato messo in posa oltre 30 anni fa. Il 25% di queste supera anche i 50 anni. A questo si aggiunge la questione clima. La temperatura in Europa è aumentata di circa un grado centigrado al più della media mondiale, con un trend di continua crescita. Occorre un governo dell'acqua, osserva Mauro Adascenzi, vicepresidente di Utilitalia. C'è un approccio generale per cui questa risorsa che appare sempre di più limitata o comunque distribuita in modo diverso nello spazio e nel tempo, abbiamo fenomeni di grande precipitazione che creano danno e poi lunghi periodi di siccità occorre che l'uomo sia in grado di governare questi. Occorre dunque orientarsi verso uno sviluppo sostenibile secondo il programma suggerito dall'agenda delle Nazioni Unite e stimolare un riuso delle acque dando nuova vita ai fanghi di depurazione per la valorizzazione energetica. E' assolutamente essenziale in un paese come l'Italia investire in questo sestore perché gli investimenti sono mancati per diversi anni, se non addirittura decenni. Ed ora una info di servizio e vi ricordo che a partire da questa sera Chiama De Caro andrà in onda alle 20.30 e non più alle 21.00, quindi subito dopo il nostro telegiornale condotto da Alessandra Bucci. Siamo in chiusura e come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet, telebari.it, radiobari.net e infochioccio. E' tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e come sempre vi lascio con le previsioni del tempo. Amici tra i bimiti ho bentornato a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà l'anticiclone della Zorra e dall'Atlantico spingersi verso l'Europa centro-occidentale, quindi situazione tranquilla, un po' di aria umida in arrivo dal Tirreno porterà qualche annuvolamento sulle regioni tirreniche, ma nulla di più da segnalare. In effetti guardate, nuvolosità ben poco presente sulla nostra penisola, qualcosina diciamo sulle regioni tirreniche di tanto in tanto, ma ripeto, senza precipitazioni significative. Vediamole infatti le piogge previste sul nostro paese, vediamo spuntare qualche macchiolina azzurra sul basso Tirreno di tanto in tanto, ma in realtà precipitazioni deboli, occasionali e di breve durata. In definitiva, ci attendo un martedì nel complesso di bel tempo, abbiamo comunque indicato un po' di variabilità sul basso Tirreno, anche nella penisola Salentina diciamo qualche occasionale, breve piovasco ma poca roba, e come temperature e valori diurni piacevoli oltre i 20 gradi, il rialzo tra l'altro anche le temperature notturne. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.